Con Prospero la Biblioteca Rendellena augura una stagione nuova in cui diventa anche protagonista attiva della proposta culturale della città di Monopoli. Quindi non più solo un raccoglitore di eventi che provengono dall'esterno, ma un luogo che propone alla città una serie di attività, di iniziative e di proposte culturali.